Eccoci e bentornati sul mio canale Torniamo su Biolab dopo la partita dell'altro giorno In modalità Momentum Oggi andiamo a spararci una bella partitozza Infetto, sarà la seconda o terza partita che faccio qui Quindi l'obiettivo è resistere All'infetti, quindi o tutti infetti Oppure no, contro la rovescia dell'infezione Ah, c'ho pure un bello scudo Della funzione exo, ok, fra poco Parte l'infezione Stavo per sbatigliare perché ragazzi è tardi Sono le 11 e 10 a 7 E dopo una bella giornata di lavoro Io mi sto sparando una bella partitozza infetto Allora, non vedo nessuno Allora, l'obiettivo della partita è innanzitutto vincere E poi la cosa ancora peggiore è resistere E coprirsi le spalle Perché qua arriva qualcuno dietro e sorrogne Quindi stiamo attenti Ma io ho visto qualcosa là, ho visto Ho visto qualcosa là, ha infettato Stanno a cominciare l'infettati a riprendere chi è non infettato Eccolo, 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 eccolo mio Vendicatore, andiamo Perfetto, ok Allora, piano Questo che cacchio fa? No! No, alle spalle E anche io sono infetto adesso Anche io sono infetto ragazzi Anche io sono infetto E quindi dobbiamo andare a prendere Non so quanti ne sono rimasti Gli altri rimasti, eh Allora, vediamo un po' Vediamo un po' qua sotto Ho visto qualcuno Qua ce ne sta uno Eccolo, sta qua, sta qua, vai Vai, contagiato Supersite infettato Grande, grande gigi Andiamo Allora, ancora Vediamo un po' se Perché qua poi i respawn sono diversi Che è sto coso? Non lo so, me lo so trovato Ho cliccato ragazzi E me lo so Oh! Porco a momenti muoio A momenti muoio A momenti muoio Che cacchio ha? No, migrazione del lost No, dai Stiamo andando tutti benissimo Siamo mega infetti Ripartiamo Attenti alle spalle ragazzi Che dovrebbe essere rimasto uno o due Ancora da contagiare No, solo uno Dai 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 infetti Dai infetti Eeeh Andiamo Vittoria Da paura ragazzi Spero che il video sia stato di vostro gradimento E se si Iscrivetevi al mio canale Mettete un bel mi piace sulla mia pagina di Facebook E ci vediamo con tanti nuovi video Sempre qui Sempre sul mio canale Grazie a tutti Grazie a tutti